Buongiorno cari colleghe e cari colleghi, in questa pillola voglio parlare brevemente della questione che riguarda la normativa antimafia e che può riguardare imprese ad esempio appaltanti che si trovino colpevolmente o incolpevolmente ad avere rapporti con aziende che sono infiltrate dalla criminalità organizzata. Il codice antimafia, la normativa in generale, prevede che a scopo preventivo, quindi non a scopo punitivo, si possono adottare sostanzialmente due tipi di misure. La prima, quella leggera e quella dell'introduzione all'interno dell'organo amministrativo dell'azienda che attenzione non è indagata per reati ma magari appaltante e a dei subappaltanti non propriamente che agiscono nel mondo del lecito, di appunto accostare al normale organo amministrativo alcuni soggetti, normalmente si tratta di colleghi commercialisti o di avvocati che possano stare nell'arco di sei mesi, un anno all'interno dell'azienda, ripristinare come dire i rapporti di piena legalità e essere estromessi naturalmente con provvedimento del giudice dopo aver compiuto il proprio lavoro. La seconda, la seconda via che è quella più dura di la verità è quella in cui l'azienda venga del tutto commissariata e quindi per un periodo transitorio l'organo amministrativo venga sostituito da un organo nominato dall'amministrazione giudiziaria. Questo implica fondamentalmente due tipi di ragionamenti. Il primo è che qualunque azienda abbia a che fare con altre aziende, magari fornitrici, subfornitrici eccetera, stia ben attenta e faccia possibilmente un audit di legalità su quei soggetti con cui contratta. Questo per evitare qualunque tipo di infiltrazione anche indiretta. La seconda osservazione è questa, è chiaro che è meglio un affiancamento rispetto a una sostituzione provvisoria, perché una sostituzione provvisoria, un commissariamento vero e proprio, seppur l'azienda sia incolpevole e seppur sia una misura transitoria, sia una misura preventiva della disciplina organica, è una misura che comunque danneggia l'immagine dell'azienda, perché comunque all'esterno qualcuno, seppur non esista neanche un processo penale a carico di questa azienda e dei suoi organi, può pensare che in fondo erano collusi con la criminalità organizzata. L'accostamento è sicuramente migliore. Purtroppo però c'è da dire che anche l'accostamento all'organo amministrativo di professionisti terzi di fiducia dell'autorità giudiziaria ha comunque un effetto abbastanza dannoso nei riguardi della reputazione dell'azienda, perché basta una semplice visura per vedere che sono stati immessi dei soggetti che non appartenevano a soggetti fiduciari dell'assemblea dei soci. È una normativa questa in principio giusta, bisogna solamente stare attenti a non colpire, per prevenire, soggetti onesti che si sono trovati per errore incolpevole, ma magari anche colpevole perché non avevano nessun altro a cui appaltare questo genere di lavoro, si sono trovati a lavorare con soggetti questi sì in mano alla delinquenza, questi sì che andranno puniti secondo la normativa vigente. Quindi cos'è sconsigliabile onde evitare provvedimenti del genere? E vedo che soprattutto il Tribunale di Milano è molto saggio nell'applicare le misure più leggere di prevenzione proprio per salvare l'azienda assolutamente e lasciare la sua azionariato e la sua governance. Ecco, stare attenti e possibilmente applicare bene il modello organizzativo, la 231, facendo un audit di tutto il proprio sistema di fornitori. In questo modo si può evitare una cosa del genere e dimostrare comunque, capitassero errori di questo tipo, dimostrare la buona fede, dimostrare che tutto quello che era impossibilità di fare del management è stato fatto, perché va ricordato il management, e intanto meno l'azionariato, non hanno poteri di indagine, non hanno accesso al casellario giudiziale o registro dei carichi, scusate, penali, eccetera, dei soggetti con cui si trova a contrarre. Quindi ha una capacità di indagine molto limitata rispetto a qualunque organo di polizia giudiziaria. Grazie a tutti e a tutte e a tutti per l'ascolto e buona giornata.